Andrea Gianbruno escluso da Mediaset, sarà costretto a rinunciare al programma e diario del giorno. Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di immergervi nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Ora, passando alle notizie del giorno, sembra che ci siano grandi cambiamenti nell'aria per Andrea Gianbruno, uno dei volti noti di Mediaset. Si dice che stia per dire addio al programma e diario del giorno. Questa decisione sembra essere stata scatenata da una serie di polemiche suscitate dai fuori onda, come ci ha raccontato Striscia la notizia. E parlando di notizie sorprendenti, questa mattina è stata annunciata ufficialmente la fine della lunga relazione tra Giorgia Meloni e il suo compagno. Dopo circa un decennio di storie insieme, questa notizia ha fatto scalpore. Ma è importante riflettere su una cosa, per quanto una piccola goccia possa sperare di erodere una pietra, alla fine la pietra rimane comunque una pietra, mentre la goccia è solamente acqua. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso questa riflessione sui suoi canali social, come un epilogo al suo annuncio di fine relazione con Andrea Giambruno.